qui io mi son rotto il cazzo di pulì oh che palle dio che sci è zitto madonna santa palle che palle alexa quando manca il timer alzo timer da 35 minuti e restano 23 minuti quanto? alexa quando manca il timer alzo timer da 35 minuti e restano 23 minuti che coglioni che palle senti io ci vado così con la pezza e vaffanculo lo lascio asciugare più pulito di così non si può i piatti però me li puliscono allora andiamo di là andiamo pulisci divinamente ma te grazie mille grazie leggi giorgia ma non è vero ma non è vero allora considera che io quando pulisco sono molto precisino io se qualcosa è fuori posto a me dopo insomma me fa un po' impazzì quindi deve essere tutto quanto preciso tutto perfetto io non non sopporto il sozzo il disordine lo tollerò ma lo sporco no cazzo ha fatto questa qua dietro se spenda vabbè ti grazie allora dicevamo eh no non va bene così non va bene non va bene vabbè lo stesso vabbè lo stesso me lo faccio andare bene c'hai una town? eh sì c'hai una town ma dove? ma dove c'hai una town? allora prendiamo un po' qui questo gioco che si chiama four guys nell'attesa alexa quando manca? alexa quanto manca il timer? alto timer da 35 minuti e restano 21 minuti grazie allora mentre aspetto 21 minuti leggo un po' la chat gioco faccio altro allora The Sims non lo porti? The Sims ma che cazzo è The Sims? ma Jump King già l'ho portato ragazzi Jump King che cazzo dice Jump King l'ho portato un botto di volte un botto di volte l'ho portato cazzo ma sono pure rotto un po' le palle io onestamente mi potresti dare un consiglio io lavoro però vorrei fare anche altro ma non riesco a causa del lavoro notturno ma il lavoro notturno mi piace cosa posso fare? l'unica cosa che ti consiglio è di seguire Mauro di seguire come si chiama? allora l'unico consiglio che ti posso dare se vuoi guadagnare soldi e vuoi avere il mio tenore di vita devi seguire Mauro Dallaio su Instagram no sto scherzando ma te pare sto scherzando sto scherzando sto scherzando sto scherzando vai a vedere Gischiando in live a me di Gischiando non me ne frega un cazzo un emerito cazzo ragazzi che voi mi dite andate a seguire Gischiando non me ne frega un cazzo a me non me ne frega nulla allora vediamo un po' tu c'è un bellotto come oh oh zitti tutti guarda che non è malvagio eh non è malvagio eh non è malvagio non è malvagio cazzo ma non è malvagio eh porca droia sembra carino eh sembra carino c'è un ottimo aspetto lo ciambellotto ah signor ma tocca essere come sta tutto a posto tutto a posto tu invece come stai grande allora vai ci abbiamo lupupazzo qua mentre aspettiamo il ciambellone facciamo un po' di fall guys cazzo a cazzo duro belli precisi come non mai ci teniamo a spendere due parole perché tu sei molto meglio di lui ti seguo da tanto mi fa davvero in live no 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 io non sto dicendo che io sono meglio di gischianto gischianto è meglio di me sto semplicemente dicendo che a me non me ne fotto un cazzo di quello che sta a fare una persona che non mi calcola minimamente e non non c'ho nulla a che fare cioè non non mi interessa capito non mi interessa a me se mi dicevi che ne so vai a vedere Sandino che sta a fare live io vado a vedere perché io voglio bene Sandino è un amico però ripeto una persona come Gennaro che ha fatto le nostre strade si sono divise a me non me ne frega proprio un cazzo poi te posso te posso mi dispiace che si stia che stia in quello stato di salute però ripeto se sta bene lui se lui sta bene stanno bene tutti però insomma che a 25 26 anni una persona sta fa questo tipo di live non fa non fa un minimo di movimento fisico e niente secondo me insomma dovrebbe un attimo riguardarsi secondo me secondo me poi se sta bene lui e lui non gliene frega niente è a posto cioè sta a posto pure per me non è che me però ripeto una persona veramente simpatica sa fare il suo lavoro lo fa anche fatto bene a posto a me non me ne frega niente cioè no no non abbiamo litigato non abbiamo litigato no assolutamente assolutamente no no assolutamente no non ho litigato però ecco che uno mi viene in live e mi dice Matteo vai a vedere quello che sta facendo Gischianto in live io che posso dire nient'altro insomma come può come se uno mi viene in live mi viene a dire che ne so vai a vedere cosa sta facendo Power vai a vedere cosa sta fa Morehead vai a vedere cosa sta fa quello sta fa quell'altro magari ci posso andare off stream ma non in live è un maleducato chiunque scrive queste cose grazie mille ZDcrist YouTube sei mesi ciao bellissimo era da me che non entravo come stai grande ZDcrist un bacio enorme io come sto proprio alla grande io sto alla grande alla grande allora dicevamo andiamo avanti poi io l'ho sempre detto ragazzi se Gennaro vuole giocare vuole fare un game con me io me lo faccio molto volentieri non è che faccio storie o altro allora andiamo avanti in attesa del ciambellone quadrato bello preciso un bello ciambellone porca puttana è uscito oggi in attesa ciambellone guarda che te fa Armageddon che cazzo è boh io vedo giochi enormi giochi giochi stranissimi vedo vedo giochi io andiamo è vero che Gischiando l'hai lanciato tu su Twitch non rispondo a questo tipo di domande ma te porco dio quel gioco di merda di Pop Simulator non vuole proprio uscire ma non esce non esce lo aspetto come non mai lo so ma non esce non esce cazzo non esce non esce esce prima GTA 6 che Pop Simulator che lo sto che lo sto addocchiando da mesi da mesi anni cazzo allora grazie mille just mario 29 grazie mille 22 mesi di resub grazie mille grazie un bacio enorme grazie mille allora andiamo 2 1 via via leva del cazzo tu qua leva del cazzo no eh guarda che se ci stanno rotture di palle che me che me sniperano guarda me in cazzo di brutto io eh allora ragazzi dai fate i seri per favore guarda fate i seri non faccia non fate non fate figli di puttana per favore no figli di puttana per favore non voglio i figli di puttana in game no porco Eva ok ce la faccio eh non lo so se ce la faccio porca Eva porca Eva hai capito cioè se apre una si una no cazzo ragazzi io gliel'ho chiesto quant'era grazie a tutti